Leonardo buongiorno ma che stai facendo il sole oggi è l'unico sole della settimana no ma in realtà io sto aspettando un passaggio perché devo andare a Quisa e allora a questo punto sto cercando di capire se qualcuno mi dà un passaggio e lo voglio fare via Arno scusami sì vi hanno una bella idea però ti spiego una cosa la noti come scorre l'acqua l'acqua scorre secondo me sì perché se tu aspetti un passaggio di là sarà due a guardare l'acqua aspetta hai ragione no la cosa secondo me importante però da dire è questo sì in effetti devo aspettare un passaggio allora ero così illuminato dal Ponte Vecchio che non potevo fare a meno di guardarlo ma in realtà io voglio andare a Pisa tanti voglio andare a Pisa Daniele Cernilli Boco tantissimi giornalisti sono qui qui no vabbè ma insomma altri fiumi e tutti vanno a Pisa che c'è di così bello a Pisa quest'anno allora 27 28 maggio ma volete pensare che finalmente a Pisa abbiamo non so quanti ma oltre 36 produttori ci sono tantissimi vini da assaggiare perché c'è terra di Pisa è veramente un'occasione nella quale c'è sì un convegno c'è sì un tour per giornalisti ma soprattutto il martedì e credo sia la cosa veramente importante martedì 28 c'è l'apertura al pubblico alla camera di commercio per quanto riguarda gli assaggi quindi avete l'occasione di assaggiare tantissime cose e io credo che questo sia un'occasione a non perdere tant'è che io mi sono messo qui apposta per vedere aspettiamo eh intanto potiamo solo patini di salvataggio per ora sì però intanto arriva sono fiducioso